Niente sport e niente dialetto, così come nelle sue precedenti opere. Iniziazioni, il terzo libro che porta la firma del giornalista e scrittore di Frosinone, Amedeo Di Sora, è un romanzo. Una storia che racconta la scalata al successo di uno scrittore che nella sua vita ha avuto a che fare con cinque donne. È la storia di uno scrittore, è la scalata al successo di uno scrittore. Il libro è ambientato per metà a Londra, che io conosco molto bene perché è un figlio che vive a Londra da vent'anni, e l'altra metà su un'isola di un arcipelago, che è anche questo un parto di fantasia. Quindi è la storia di quest'uomo che scala il successo e la cui vita, come tutti gli uomini, è attraversata da cinque bellissime donne, una diversa dall'altra, che lasciano un segno marcato, indelebile, nelle loro storie con il protagonista del libro. Dallo sport al romanzo, come è avvenuto questo passaggio? Beh, ma io, è vero, sono quasi cinquant'anni che scrivo per il Corriere dello Sport, ma non mi sento soltanto un giornalista sportivo. Io ho scritto di tutto, mi piace scrivere, tant'è vero che dopo iniziazioni è già in cantiere un altro libro, dal quale oltretutto stiamo traendo liberamente una commedia in due atti che spero di poter mandare in scena. Amedeo Di Sora nel 2005 ha scritto C'era una volta un pallone, nel 2009 il vocabolario del dialetto frusinate, ora iniziazioni. Ma qual è la sua opera preferita? Guarda, il più speciale, se più speciale si può dire, è il prossimo. Io sono affezionato a tutti i tre libri che ho pubblicato, ma il prossimo mi piace ancora di più, perché è una storia intrigante, è una storia d'amore, ed è una storia che poi, tra le altre cose, è ambientata in parte a San Felice Circeo, ma soprattutto qui nella nostra terra. Un invito al pubblico, perché leggere iniziazioni? Perché l'ho scritto io.